Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi 12 luglio. I temi fondamentali della giornata sono diversi rispetto a quelli di cui vi parlerò io oggi perché la cosa che mi ha colpito sfavorevolmente è come un po' l'ho visto anche ieri diciamo in un convegno della Confagricoltura, l'Assemblea della Confagricoltura a Bruxelles come in realtà il governo navighi a vista. Forse con il senno di poi potrei dire che la stessa cosa avveniva nel 94 quando ci fu il change of regime con Berlusconi che diventò presidente del Consiglio per la prima volta cioè quando una nuova classe dirigente arriva è davvero inesperta e combina dei grandi casini. Insomma fatta questa premessa di stile più che di sostanza insomma io sono piuttosto stupito di una piccola vicenda che in realtà è molto grossa che riguarda i voucher. Vedete i voucher sono quella roba che funzionava moltissimo e aveva anche delle illegalità al suo interno come tutte le cose probabilmente anche Facebook ha delle illegalità al suo interno non ce l'hanno testimoniato ma non lo chiudiamo. Probabilmente anche il telefonino viene utilizzato per fare delle illegalità ma non lo chiudiamo. Insomma anche le auto uccidono delle persone ma non evitiamo agli italiani l'obbligo di guidare semmai gli diamo una patente. Insomma tutto questo per dire che i voucher siccome venivano usati male talvolta sono stati completamente cancellati. Quindi sostanzialmente poi la cosa ridicola è che non sono cancellati diciamo cancelliamo i voucher sono stati sostituiti con qualche cosa che ovviamente era talmente difficile burocraticamente da fare che nessuno ha usato. Allora che cosa succede? La Lega dopo il decreto dignità che è una cagata pazzesca che cosa si inventa? Si inventa di introdurre all'interno del decreto dignità per controbilanciare la dirigibilità del decreto dignità si inventa la Lega di reintrodurre attraverso il decreto dignità i voucher per dare un colpo alla botte o un colpo al cerchio che sarebbero i suoi imprenditori del nord-est. In realtà però si tratta di fuffa e più si va avanti più mi rendo conto che si tratta di fuffa. Ieri per esempio il ministro Di Maio, il ministro del lavoro Di Maio che cosa ha detto alle commissioni riunite? Ha detto guardate che possiamo reintrodurre i voucher sull'agricoltura, sul turismo e sulle badanti a precise condizioni, a parte il fatto che le precise condizioni le dobbiamo vedere perché sono esattamente quelle che poi non le fanno utilizzare i voucher prima si andava dal tabaccaio e si comprava adesso se mi metti su una piattaforma internet come siamo abituati con la Sogei di merda cioè quella grande agenzia informatica che in realtà è più capace di combinare casini che riuscire a fare una roba ben fatta nella digitalizzazione beh insomma vediamo quali sono i dettagli ma poi che cosa vedo? nonostante tutto questo mio pregiudizio nei confronti della capacità di rientrodurre i voucher che in sé sono cosa buona e giusta leggo l'intervista al fatto nell'intervista al fatto Di Maio oggi non dice tornano i voucher sul turismo e agricoltura dice per specifiche i voucher per il turismo si vedrà quelli sull'agricoltura si a specifiche condizioni quelli sull'agricoltura e le badanti sul turismo si vedrà e quindi già toglie una parte fondamentale dei lavori a termini che sono nel turismo per i quali i voucher lui al fatto dice una cosa diversa rispetto a quella dice alla commissione alle commissioni riunite allora cosa è il senso di questa vicenda? che è una vicenda tutta politica la Lega deve far finta con i suoi imprenditori di essere stata brava per aver introdotto i voucher e invece con il suo elettorato Di Maio continua per la sua strada cosa più o meno simile è quella che arriva sulla migrazione sull'immigrazione Verderami oggi sul Corriere della Sera ci dice c'è uno scontro nel governo tutti dicono che c'è uno scontro nel governo anche se i ministri anche ieri con me centinaio lo ha negato in tutti i modi oggi però c'è un passo in più se mi potete permettere riguardo all'immigrazione i temi dell'immigrazione perché quella foto tra il ministro tedesco, bavarese quello che aveva iniziato di uscire dal governo se la Merkel fosse stata tenera sull'immigrazione il ministro austriaco, il ministro italiano che fanno un asse di italo-tedesco che è una cosa che è meglio non evocare come qualcuno oggi ha scritto insomma dà il senso che forse un passo diverso in Europa sull'immigrazione c'è poi oggi si critica Salvini perché ha detto che bisogna arrestare le persone che stanno sulla nave che avrebbero salvata dagli italiani perché dovrebbero essere arrestati perché hanno minacciato l'equipaggio di questa nave scusatemi di questa nave che li ha rimorchiati e salvati ecco, certo è il rituale come sempre Salvini e i ministri chiaramente non arrestano perché ci sono i giudici che devono stabilire attraverso una procedura scritta, concordata dalle leggi, dalle procedure come arrestarli e oggi Travaglio lo sfotte sul fatto che i ministri non arrestino mi sembra veramente una polemica senza senso perché è evidente che il ministro non arresta in Italia cioè di che stiamo parlando ma forse è un ministro che denuncia che magari un migrante salvato non si deve permettere di insultare e minacciare un equipaggio insomma questo è il minimo è lo stesso minimo se mi permetto di segnalare a Travaglio e agli amici suoi che quando un delinquente però che ha la caratteristica di essere insieme ad altri mille delinquenti prende, va per strada e sfascia e si mette il casco beh insomma un ministro può pretendere che vengano arrestati e finalmente un ministro che dica arrestateli perché fanno una cosa che non è giustificata neanche dalla protesta beh insomma questa è una cosa buona e giusta quindi giusto che si dica che un migrante salvato non si può permettere di minacciare chi lo salva poi non è lui che li arresta chiaro lo sappiamo non c'è bisogno che ci sia un pezzo dotto di Travaglio per capire che non sono i ministri che arrestano lo sa anche lui il CSM invece tutti contenti soprattutto quelli del fatto ma non solo perché Davigo è stato eletto come componente in componente giudici della Cassazione Davigo Superstar questo è il titolo diciamo modesto che gli riserva il fatto tutti i giornali ne parlano perché quello che è successo è che anche nel Consiglio Superiore della Magistratura c'è un'onda nuova via i giudici di sinistra avanti i giudici di destra ma state attenti un po' come per la Corte Costituzionale Suprema Corte Americana destra e sinistra sono una cosa molto complicata da definire nella magistratura la destra come quella di Davigo che piace al Movimento 5 Stelle qualcuno dice che è organico è il consigliere ombra nel Movimento 5 Stelle e la destra tra i giudici è la destra non garantista è la destra che vuole arrestare tutti è la destra per cui come Davigo si dice i politici non hanno smesso di rubare hanno smesso di vergognarsi insomma senza nessuna base cioè bisogna stare veramente molto 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 attenti la destra in America rispetto alla sinistra ma non vogliamo fare una lezione è semplicemente il rispetto della carta costituzionale americana che tale non è quindi la procedura il formalismo rispetto all'interpretazione diciamo un po' più moderna che i progressisti danno nella Corte Americana anche questo per leggere quello che succede nella Corte Americana quindi Davigo di destra Stefano viene non è di destra è tecnicamente viene da una corrente di destra si scinde da quella corrente di destra che è la seconda peraltro che vince e come possiamo dire la sinistra manettara Vincenzo è un concetto un po' strano perché anche la destra talvolta è manettara bisogna capire su chi si è manettari perché la destra manettara lo è per i delinquenti diciamo per i poveracci così si sostiene e la destra diventa garantista per i colletti bianchi questa è la sostanza diciamo della divisione oggi tra i magistrati sui migranti ne ho parlato sui voucher ne ho parlato i giochi beh è una cosa straordinaria la questione dei giochi perché gli impediscono di fare la pubblicità come se fossero l'alcol ah no l'alcol la pubblicità lo fa le sigarette ah no ma le sigarette ci sono 10 milioni e mezzo di italiani che ancora fumano le sigarette nonostante il divieto della pubblicità insomma si impedisce di fare la pubblicità ci si accorge che in questa maniera se tu non fai la pubblicità viene meno l'iva e come si fa ad aumentare a rendere tutto facile si tassano i giochi quindi gli si toglie la pubblicità vengono meno introiti per il mancanza d'iva derivante dalla pubblicità e quindi si tassano ancora di più i giochi e voi direte ma i giochi non sono tassati ne tanto no 50% sono tassati i giochi e oltre a quei 10 miliardi che forniscono ogni anno allo Stato oltre a quei 10 miliardi hanno da pagare i dipendenti i contributi l'IRES e tutte le altre tasse che tutti noi umani paghiamo quindi non è che sono tassati sono ipertassati i giochi allora mi chiedo se non volete fare la pubblicità se li volete ipertassare perché non fate meno gli ipocriti e dice rinunciamo a questi 10 miliardi di incasso che lo Stato ha dai giochi ogni anno e sapete che facciamo li chiudiamo i giochi non si può giocare in Italia come non si può fare la prostituzione come non si potrebbe fumare diciamo così nei luoghi pubblici si fuma non si fuma quindi quello che voglio dire è viviamo sempre su questo incredibile sistema di ipocrisia da una parte diciamo che la ludopatia è il grande problema italiano ma se tale è allora non facciamo fare i giochi non smettiamo di fare la pubblicità il ludopatico non va a giocare perché c'è la pubblicità il ludopatico va a giocare perché è ludopatico non si va a drogare uno perché c'è la pubblicità della cocaina si va a drogare perché è drogato e allora se lo vogliamo vietare vietiamolo completamente cosa io trovo incredibilmente sbagliata bisogna liberalizzare non drogare legalizzare non impedire di giocare ma comunque su questo ne ho parlato tante volte su questo sì sul sito nicolaporro.it le cinque grandi fake news sui giochi le potete trovare là stupendo stupendo il pezzo oggi di Vittorio Sgarbi sul giornale perché prende per i fondelli il ministro della cultura che ha fatto ieri Bonissoli che ha fatto ieri un suo discorso che umilia dice Sgarbi la lingua italiana la cultura serve a coltivare la nostra memoria storica e vivere il presente costruendo ponti culturali ma come cazzo scrive questo ministro riannodare i fili tra centro e periferia vi dico subito un'altra cosa poi quando si parla di periferia si dicono quartieri oggi perché la periferia si fa finta che non esista quindi si deve definire quartieri ho partecipato a un convegno in cui si diceva non si deve dire periferia si devono dire quartieri e poi la periferia cosa si fa? si rattoppa si rattoppa si fa la manutenzione come ha spiegato Piano questi hanno paura delle parole scrivono per luoghi comuni allora Vittorio è stato delicato ma sfottendolo straordinariamente la cultura per coltivare la nostra memoria storica e vivere il presente costruendo ponti culturali ma come sì come Fusaro ragione Françoise ma dietro a Fusaro almeno c'è un'idea che io non condivido dietro a questo non c'è un'idea sono parole libertà fatte da luoghi comuni di gente che scrive per il piacere di scrivere cagate come riannotare i fili tra centro e periferia bellissimo pezzo oggi di Sgarbi infine oggi dalla stampa inchiesta sulla Notap scrive Zancan io mi aspettavo un pezzo in cui si dicesse una cosa molto semplice che 8 km interrati di tubi sotto alla spiaggia non fanno nulla invece oggi mi trovo Zancan che dedica 30 righe al responsabile della Notap e poi alla fine è una specie di compitino in cui si come sempre i giornalisti italiani si come si dice si strizza l'occhio il discorso è grammaticalmente corretto per le idee sono della tua opinione beh certo che è grammaticalmente corretto ma il problema è che cosa io tante volte commento degli errori enormi grammaticali di sintassi ma il punto fondamentale è che si giudicano le persone delle idee poi si cerca di non fare degli errori ma quel fatto che sia grammaticalmente corretto nulla toglie al fatto che quello è un discorso che vuol dire zero il politichese di una volta insomma dicevo concludendo sulla stampa uno si sarebbe aspettato un pezzo almeno sulla tappa non sto parlando dell'ILBA cioè sulla cosa che meno dannosa del mondo abbiamo 38.000 km di tubi sotto il nostro sedere per portare il gas e noi ci stiamo lamentando di 8 km che per il gestore di una spiaggia tra l'altro interrati creeranno un disastro è un pericolo per la spiaggia che sta a 40 gradi in quel momento che vede i bambini giocare sopra al maledetto tubo vabbè imbarazzante il problema è che più che le proteste bisognerebbe forse dare un clima meno anti-industriale ai nostri giornalisti che peraltro sono pagati dalle industrie un saluto ciao a tutti